100 pagine su offerta didattica, strutture, servizi, facilities e racconto del campus, realizzata in circa 25.000 copie annue ma consultabile anche in versione digitale, scaricabile dal sito unisa.it in un formato graficamente rinnovato. La guida è multilingue, redatta oltre che in italiano, anche in inglese, spagnolo e cinese, uno strumento di informazione, di orientamento e di comunicazione rivolta agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti delle scuole e ai colleghi universitari italiani e stranieri. È uno strumento principale di comunicazione con il mondo studentesco, con le loro famiglie, con gli studenti attuali che si devono orientare all'interno di una realtà complessa e nuova per loro che è quella dell'Università degli Studi di Salerno ma allo stesso tempo anche per gli studenti potenziali, per le scuole superiori. Noi ovviamente oggi scopriamo un dato ulteriore di crescita degli immatricolati del nostro Ateneo ovviamente il dato si riferisce alle triennali in cui noi segnaliamo ancora un ulteriore aumento quest'anno. Noi abbiamo già superato il numero dell'anno scorso e tra l'altro sappiamo pure che l'ulteriore incremento l'avremo nelle magistrali ma quel dato lo sapremo solo a marzo dell'anno prossimo e ciò nonostante questo si deve a tanti fenomeni, sicuramente alla reputazione nazionale e internazionale, sicuramente al fatto delle classifiche che ci premiano, sicuramente alla percezione che ha il territorio rispetto alle cose che facciamo nella costruzione del nostro campus ma molto si deve anche a questo dialogo che noi abbiamo con gli studenti e con la scuola. Cresce quindi l'Università degli Studi di Salerno anche grazie alla comunicazione e presentato per l'occasione anche il video di Ateneo che in otto minuti lo racconta in tutti i modi, in tutte le sue possibilità e in tutte le opportunità che offre agli studenti e non solo. Ci abbiamo presentato il video in italiano e anche questo è disponibile nelle quattro lingue ed è un modo rapidamente per dare uno sguardo d'insieme rispetto alle nostre caratteristiche della nostra Università.